Un miliardo di euro per le aziende agricole che faranno impianti fotovoltaici all'interno delle proprie aziende, quindi aziende agricole, zootecniche e anche agrituristiche e avranno la possibilità di percepire un contributo fino all'80% per la produzione dell'autoconsumo energetico, quindi una possibilità importantissima. Un'opportunità importante per le aziende agricole è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il bando inserito nel PNRR che permette alle aziende agricole di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle aziende, un'ulteriore occasione per coniugare innovazione e tradizione. Ricordo che nell'ultima programmazione del piano di sviluppo rurale PSR un miliardo 164 milioni che sono stati bruciati dalle aziende agricole per grossi investimenti all'interno delle nostre aziende, quindi noi oggi le aziende agricole sono aziende che hanno fatto grossi investimenti sia per quanto riguarda l'aspetto ambientale ma soprattutto anche per quanto riguarda l'aspetto dell'innovazione, quindi aziende sempre più inserite in un mercato che diano la possibilità alle nostre aziende di ridurre i costi di produzione e valorizzare la produzione.